Continuazione del libro Il papato materiale di Donald J. St. Bourne, del papato materiale, testo latino italiano, che si riferisce alla tesi di Monsignor Gerard de Laurier, tesi chiamata anche Cassicciaco. Sulla seconda sezione, nozioni preliminari, l'autorità considerata in concreto, cioè in un papa o un re. L'autorità è ordinata essenzialmente al bene comune. Nel fondare una società, gli uomini si riuniscono allo scopo di compiere una sola cosa in comune. Questa cosa da fare in comune, altro non è che il bene comune della società. E poiché il bene è uno solo e quindi naturale, è necessario che la moltitudine degli uomini che si riuniscono in una società, designi una sola persona fisica o morale che abbia cura di tutta la comunità, per guidare l'intera comunità ai fini che le sono propri, ossia al bene comune. La regia potestà e quindi anche il re sono definiti dalla facoltà di legiferare che a sua volta è definita dall'essere ordinata al bene comune. L'autorità è perciò essenzialmente ordinata al bene comune mediante la legge e di legiferare è l'oggetto formale dell'autorità. Ogni autorità viene da Dio. Ogni autorità ha il suo fondamento nell'autorità di Dio, nella stessa providenza di Dio con la quale egli infallibilmente ordina e promuove tutte le cose verso il loro fine. Questa facoltà di legiferare nel re è mera partecipazione alla stessa providenza di Dio e alla legge eterna che regola tutte le cose. Il legiferare da parte del re non è altro che un partecipare alla stessa azione divina dello stabilire la legge eterna dalla quale la legge umana trae la sua forza di obbligatorietà. L'obbedienza prestata e dovuta alla legge umana è indirettamente obbedienza a Dio stesso da quale la legge riceve la sua obbligatorietà. Quindi il fondamento principale del rapporto ressudito è la providenza stessa di Dio a quale si deve assoluta obbedienza in quanto egli è il creatore, egli insomma bene l'ultimo fine di tutte le creature. Questo rapporto ressudito proviene da Dio e non dalla comunità ciò nonostante esige che la comunità designi legalmente vale a dire il nome dell'intera comunità una persona che riceve in sé la regia potestà. La regia potestà genera mutue relazioni la potestà di legiferare che è una potenza attiva è ciò per cui qualcuno è costituito re reciprocamente l'obbligo di obbedire alla legge il re o il detentore della regia potestà è collegato con l'intera comunità in quanto è il promotore del bene comune a sua volta l'intera comunità è collegata al promotore del bene comune in quanto essa è mossa al bene comune il re ha il diritto di legiferare perché Dio infonde in lui il diritto di promuovere la comunità verso il bene comune i soggetti hanno l'obbligo di obbedire perché Dio infonde in loro il dovere di obbedire al legislatore perciò il fondamento della relazione re suddito è primo in primo luogo la stessa onnipotenza e provvidenza di Dio e secondo il fatto di infondere nel re la regia potestà e nei sudditi il dovere corrispondente di conseguenza diventare colui che primo dall'intera comunità riceve la designazione legale a promuovere il bene comune secondo da Dio riceve l'autorità quindi dal fatto che la società genera il re in quanto designa qualcuno a promuovere il bene comune dell'intera comunità nascono due mutue relazioni come accade nella generazione naturale da un lato è fatto re colui che è costituito re dalla relazione di autorità verso i suoi sudditi dall'altro sono fatti i sudditi coloro che sono costituiti i sudditi dalla relazione di sudditanza che hanno con il re poiché il re è generato soltanto in ordine al bene comune di conseguenza le relazioni di autorità e sudditanza permangono soltanto fino a quanto permane l'ordine al bene comune così che rimosso l'ordine al bene comune anche la relazione viene rimossa quindi colui che si propone di promulgare un errore o delle leggi disciplinari nocive non può essere vero papa perché il bene della verità nella fede e nei costumi è essenziale alla missione conferita da Cristo alla Chiesa ora in parole mie se noi prendiamo l'esempio del sacramento per esserci un vero sacramento cosa serve? servono tre cose serve la materia la formula e la volontà se non è il sacramento la materia per esempio dell'eucaristia sarebbe il pane la formula cioè le parole di consacrazione e la volontà la volontà di fare quello che la Chiesa fa cioè di consacrare il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo la stessa cosa con il battesimo per essere il sacramento cosa serve? la materia sarebbe l'acqua la formula io ti battezzo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo deve essere proprio detto così se no non è formula non è battesimo non è sacramento e poi la volontà di battezzare se viene a mancare uno dei tre non c'è il sacramento certo qui ora non si tratta di sacramento ma si tratta ora dell'autorità parliamo un po' di questa autorità da Dio data da Dio e allora qui noi leggiamo che per l'autorità Dio infonde in lui nel re il diritto di promuovere la comunità verso il bene comune va bene? allora Dio è con il re Dio è proprio a guidare il re infonde in lui il diritto di promuovere gli dà questo diritto di promuovere la comunità verso il bene comune e i soggetti hanno l'obbligo il popolo ha l'obbligo di obbedire perché Dio infonde in loro allora Dio opera anche in loro infonde in loro il dovere gli dà questo dovere di obbedire al legislatore cioè al re dall'intera comunità riceve la designazione legale a promuovere il bene comune e da Dio riceve l'autorità allora se il popolo la società genera il re in quanto designa qualcuno a promuovere il bene comune per tutti per la comunità e il popolo deve obbedire perché Dio ha dato a loro un re ma perché il re è generato soltanto in ordine al bene comune si deve davvero occupare del bene comune allora occupandosi del bene comune resta re perché se no non sarebbe quel re il re deve occuparsi del bene comune e il popolo la gente lo accetta come re perché davvero fa il suo dovere per il quale Dio lo ha scelto o meglio detto per il quale è stato scelto e Dio lo accompagna se si fa accompagnare da Dio guidare da Dio ora la missione conferita da Cristo alla Chiesa è essenziale che il Papa non propone delle eresie non diffonde degli errori nocive non può andare contro il suo compito anzi fare proprio il contrario di quello che San Pietro fa perciò ripeto la frase qui scritta quindi colui che si propone di promulgare un errore o delle leggi disciplinari nocive non può essere vero Papa perché il bene della verità nella fede è nei costumi essenziali alla missione conferita da Cristo alla Chiesa continuo qui con la lettura condizioni per ricevere l'autorità regia richiamiamoci alle parole di San Tommaso riguardo alla necessità di proporzione tra materia e forma che devono essere presenti in un solo composito la debita proporzione tra materia e forma e duplice allora qui abbiamo di nuovo questo materia e forma la materia e forma e duplice per ordine naturale tra materia e forma e per rimozione di un impedimento perciò non può ricevere la regia potestà neanche colui che è stato legalmente designato se non c'è ordine naturale tra materia e forma e se esiste un qualsiasi impedimento alcune spropozioni non possono essere rimosse e precisamente quelle dovute a impedimenti fisici altre possono essere rimosse e precisamente quelle dovute a impedimenti morali dunque per sproporzione di ordine fisico e pazzi le donne non possono ricevere in sé la potestà papale perché sono fisicamente impediti ad accogliere questa potestà in questi casi c'è una proporzione permanente e non sono neanche idonei ad essere designati validamente in caso di impedimento di ordine morale poi non possono ricevere la potestà papale coloro che pongono un qualche ostacolo morale volontario e amovibile per esempio il rifiuto della consacrazione episcopale o l'intenzione di insegnare errori o promulgare leggi disciplinari in generale nocive o il rifiuto del battesimo in caso di elezione di un catecumeno ad esempio Sant'Abrogio eletto alla sede episcopale di Milano costoro sono idonei ad essere disegnati validamente perché l'impedimento è amovibile ma l'autorità non può essere infusa da Dio finché l'impedimento non è stato rimosso la ragione è che costoro non sono in grado di promuovere il bene comune fino a quando non hanno rimosso l'ostacolo e poiché l'impedimento è morale e volontario questo ostacolo si può ricondurre ad un'assenza di intenzione di promuovere il bene comune quindi Dio che è bene sussistente non può infondere l'autorità in colui che pone un impedimento volontario alla promozione del bene comune ora per la citazione del San D'Ambrogio eletto da sede episcopale di Milano si legge Pio XII previsto il caso in cui un laico eletto al solio pontificio non può ricevere l'elezione se rifiuta l'ordinanza sacerdotale dice se un laico fosse eletto Papa non potrebbe accettare l'elezione a meno che sia persona atta ricevere l'ordinazione sacerdotale è disposta a riceverla allora una persona un laico anche se viene eletta Papa e c'è una elezione non può accettare questa elezione se prima non toglie gli ostacoli e non riceve l'ordinazione sacerdotale ricapitolazione l'autorità considerata in concreto per analogia con l'oggetto sostanziale consta dell'unione di due parti materia e forma l'elemento materiale dell'autorità è la designazione legale di una persona a ricevere la regia potestà compiuta dall'interna comunità l'elemento formale dell'autorità è la facoltà di legiferare questa facoltà o diritto è essenzialmente ordinata al bene comune per mezzo per mezzo della legge della quale esso è misurato in quanto soggetto formale cosicché se l'ordine al bene comune è rimosso la facoltà è rimossa ogni autorità proviene da Dio la cui onnipotenza e providenza sono il fondamento primario del rapporto ressutito l'autorità è infusa immediatamente da Dio in colui che possiede la designazione legale purché sia presente un ordine naturale a ricevere la forma dell'autorità e manchi qualsiasi impedimento quindi la condizione sine qua non per ricevere da Dio la forma dell'autorità è l'intenzione di promuovere il bene comune in colui che è designato a ricevere la cura dell'intera comunità chi governa legittimamente e chi governa illegittimamente l'autorità in quanto potere o facoltà attiva è un habitus è perciò un accidente predicamentale che non può esistere se non è ricevuto in un soggetto ma in quale soggetto in altre parole la questione ora è chi governa legittimamente e chi governa illegittimamente la risposta è che governa legittimamente colui che è stato legittimamente eletto dalla società per ricevere l'autorità e che in più non ha alcun impedimento a ricevere l'autorità governa illegittimamente colui invece che ha assunto l'autorità illegittimamente vale a dire senza designazione legale oppure quanto pur essendo stato validamente designato ha un impedimento a ricevere l'autorità nella società civile la selezione del soggetto di autorità secondo l'opinione comune spetta l'intera comunità secondo i tomisti in generale l'intera comunità ha il diritto di istituire o eleggere la forma di governo così come il soggetto che riceverà l'autorità ma la comunità non trasmette l'autorità stessa come hanno affermato alcuni in particolare su Arese la comunità semplicemente propone un soggetto di autorità ma è Dio che dà l'autorità l'unione di questi due elementi genera l'autorità in concreto ossia il re la costituzione del governo civile non ci interessano direttamente perché la costituzione della chiesa proviene da Cristo stesso immutabilmente e non dipende assolutamente dal consenso dall'approvazione dei fedeli inoltre gli elementi essenziali del governo civile provengono dalla legge naturale cioè il fine della società la forma di governo in modo di scegliere i soggetti di autorità invece gli elementi essenziali della costituzione della chiesa sono stati stabiliti con divina disposizione Cristo istitui la chiesa chiamò gli apostoli e le ordinò gerarchicamente Cristo ha dato alla chiesa il suo fine come ha dato i mezzi sopranaturale per raggiungerlo Cristo ha istituito una forma monarchica di governo cosicché la costituzione della chiesa non provenga in nessun modo da coloro che sono inferiori ma provenga dall'autorità stessa di Cristo neanche il Papa che quale vicario gode della stessa autorità di Cristo può mutare la divina costituzione della chiesa la materia dell'autorità da quando esposto il lettore può facilmente vedere che l'autorità considerata concretamente consta di un elemento formale di un elemento materiale l'elemento formale dell'autorità è lo stesso habitus o facoltà morale o diritto di legiferare in altre parole è il papato stesso l'elemento materiale o potenziale dell'autorità è l'uomo stesso che riceve questo diritto di legiferare l'autorità in concreto cioè il papa o il re nasce dall'unione di questi due elementi perché un re o un superiore ai governi legittimamente è necessario che colui che riceve l'autorità sia designato legalmente a ricevere questa potestà conformemente alle leggi civile o a quelle ecclesiastiche altrimenti colui che si sarà proclamato papa o re non governerà legittimamente ma mediando un atto di forza perché la comunità non è tenuta ad accettare come legittimo soggetto di autorità chi non si è stato legalmente eletto come soggetto legittimo di autorità quindi colui che occupa la sede dell'autorità con un atto di violenza non riceve veramente in sé l'autorità perché non è veramente disposto a ricevere l'atto o la forma dell'autorità l'elezione o la designazione legale anche nel caso di nascita legittima nella monarchia ereditaria perfezione al soggetto perché diventi materia ultima dell'autorità cioè lo pone nell'ultima disposizione di ricevere la perfezione dell'autorità analogamente analogamente accade nel caso della generazione naturale dove i genitori non danno la forma umana cioè l'anima ma danno l'ultima disposizione della materia Dio Dio dall'anima è l'unione di materia e forma fa un ente simpliciter uno cioè un uomo se invece la materia in qualche modo non è disposta la forma non viene infusa in essa o se è infusa per un periodo di tempo il feto muore perché la materia non è in grado di restare unita all'anima a causa di un'imperfezione parimenti l'autorità in atto non può essere ricevuta se non da un soggetto legalmente designato nel governo civile dal momento che esso dipende dalla legge naturale è facile che un re che sia entrato con la forza nella sede dell'autorità possa diventare vero e legittimo re per approvazione implicita da parte del popolo ma questo principio non può trovare applicazione nella chiesa perché nella chiesa i fedeli non possiedono per legge naturale il diritto di designare il soggetto dell'autorità papale è necessario perciò che la persona che riceve papato sia designata secondo le norme vigenti in tempo di vacanza della sede apostolica cioè deve essere designata dagli elettori che hanno il diritto legale di eleggere il papa la durata della designazione a ricevere la giurisdizione papale la designazione all'ufficio dura per primo fino alla morte del soggetto secondo fino al rifiuto alla rinuncia volontaria del soggetto e terzo fino alla rimozione della designazione del soggetto compiuta da chi ha il diritto di farlo non vi ha altro modo per rimuovere la designazione sebbene non esiste autorità che abbia potere di giudicare il papa tuttavia il corpo degli elettori può togliergli la designazione infatti la designazione proviene da dio soltanto in maniera immediata in maniera immediata proviene dagli elettori per questa ragione non oltrepassa il diritto degli elettori del papa il constatare di un papa eletto la perdita di giurisdizione o anche la mancanza della disposizione a ricevere l'autorità papale per esempio gli elettori devono constatare la morte di un papa prima di poter procedere all'elezione di un nuovo papa similmente se il papa diventasse pazzo gli elettori dovrebbero constatare la sua pazzia e quindi la sua perdita della potestà papale e dopo avere constatato questo fatto potrebbero procedere ad una nuova elezione similmente se un naico fosse eletto ma rifiutasse la consacrazione episcopale gli elettori dovrebbero constatare la sua indisposizione a ricevere la potestà e dopo avere constatato questo fatto potrebbero procedere a una nuova elezione anche nel caso di una persona letta al papato o anche di chi già abbia accettato la giurisdizione papale e cade nell'eresia o peggio nel nome della chiesa abbia promulgato eresie e leggi disciplinari eretiche e sacrileghe gli elettori dovranno e potranno constatare questo fatto della mancanza nella persona eletta della disposizione a ricevere l'autorità o a mantenere l'autorità e dopo avere constatato questo fatto procedere a una nuova elezione la durata del diritto di disegnare la durata del diritto di disegnare è simile alla durata della designazione stessa cioè la si può perdere soltanto per morte rinuncia o legale rimozione nel caso degli elettori del papa soltanto colui che ha il diritto di nominare gli elettori vale a dire soltanto chi è papa almeno materialmente ha il diritto di rimuoverli legalmente ma ci si chiede come può un individuo non papa o papa soltanto materialmente rimuovere o nominare legalmente gli elettori del romano pontefice in altre parole in qual modo dopo il concilio vaticano secondo e conclavi possono essere considerati legittimi quando gli stessi elettori sono retici spogliati della giurisdizione o nominati dai retici anche essi spogliati di giurisdizione 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 di giurisdizione